C'era che si chiamava Caledo, che votava in la servigione di sinistra negli anni primi, nel 2000, ma io so che molti di quei ragazzi hanno scoperto che hanno scoperto con l'associazione che è un anno e un anno e mezzo perché alcuni di questi si sono laureati, sono sospestavati, sono partiti, è una sospensione, uno può decidere, no, qua non so, non è un problema, secondo me è un po' semplice, poi fa parte della trasformazione di ciascuno, io ho pensato di trasformare la mia rabbia in attività politica, quindi non c'è la parte di un'attività politica, però politica non c'è il senso, diventa un po' alla fine un po' anche con gli uomini, ma mi fa secondo me fare le ore, per se non è una cosa, è una cosa che abbiamo sentito talmente tanto, noi ci siamo visti per due mesi, per tre volte a settimana, con gli uomini che durano 5 ore o 6 ore, cioè se uno non ci crede, poi ne ha l'altro fatto, e allora allo stesso modo io penso a quello che non avrebbero i miei studenti, facciamo lui, facciamo queste cose, della proposta, se sono un'attività politica, e noi che facciamo attività delle associazioni comunali, abbiamo fatto un'attività di scelta, c'è il di essere qui e ora, e il di essere ci per lottare, questo purtroppo non è una cosa, se lo conosce il di un'attività politica, c'è il di un'attività politica, che è un'attività politica, ma perché la mette non è un attività politica, ma bene cosa? E allora, c'è il di un attività politica, c'è il di un attività politica, e c'è la prossima parte, il di un attività politica, e c'è il di un attività politica, cioè perché quello tra le sterozie alle columns, però non c'è il di un attività politica, e le porte di un problema importante, Grazie. 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 Grazie.